non hanno fatto tante cose, non l'hanno fatto è scuro come noi, vedi? si, no è più siciliano lui io oh si tu sei culiato? si, si ma intanto da fallisti si mi figlio che c'è canzone di continuazione una leva, una leva e faccio battaglia guarda, guarda guarda, guarda, guarda devo vivere qui devo vivere qui ma ancora 22 anni ma ancora 22 anni ma ancora 22 anni ha fatto 22 anni ho visto tu comprendi meglio questo, in 19 anni ma c'è una professione la stessa che da studiare va all'università e qui da l'università ma è circa di studiare studiare? poco, poco, poco poco, poco studia poco poco l'hanno visto al bar ahhh come si è come me io si ricorda quando tu avevi un negozio prima si è venuta con tua mamma quale ero fidanzato 82 no sposate oh si è sposato io ero sposate si è venuta con tua mamma si si ma tu stai a piedi ma lui era no sta aspettando che si faccia la macchinetta devo fare il caffetto è venuta un pochettino bellissimo più grande più figlio biondo si si un ragazzo era allora si quegli anni guarda tu cosa? io a te te l'ho trovato in piena forza ah la mia? si si lo sai che faccio? dalla mattina a sera sul divano no non fai niente non fai niente lei perchè non puoi camminare? lei ha il dolore ah si il dolore hai il dolore e qua vedi quel problema fai il sintomo capisci? quando è scopacolato anche io le gambe il terreno senta è tutta piena tematoma poi ci sei che è normale le prendono i sintomi e mi dice già nel mese devi provare le analisi l'ultimo problema ancora moriggia interna si ho tanti malattini al cuore l'asma bronchiale di avere di avere di avere di avere ma vedi che adesso parte tutto ma vedi che brillantezza di riflessi che era tutto no adesso buona per queste cose qua si ricorda si si sono andati a spedare veramente sono andati tutti a spedare sono andati allora io gli anche mio padre questo è quello che mi ha detto questo è quello che mi ha detto per... da prenderò da prenderò da prendere Sì. Poi prendere il secolo. Per provare a fare questo qua un pochettino. Ti ho sensore. Come si. Stia? Sì, sì, sì. Sento chi è stato questo. Oh, della metà. Perché? Oh, stia. Per questo, io mi vedo che hanno bisogno di tanti cose necessarie per potere. Ho iniziato con il calcio. Sì, sì. E poi, per esempio, la mia insuola deve avere una e quinta, due e tre. Certo, non so, io arrivo a cinque. Quando ero andato all'ospedale, mi sono stato dipendente. Andiamo alla regia. Qui c'è di postare attento, come la prendo, come la prendo. Anche mio padre aveva una bloccaggia qua. Io ero stato operato a casa. Io, anche mio padre. In tutti i momenti, si, come si. Carate. Carate. Carate, sì. Can you get the both sides of just one? Amazon, who prende caffè? Hanno fatto uno, or due? No, quattoro, quattoro. John. Ok, un piccolo. Piccolo? No, una cosa. Ok, grazie. Did he have the operation to block it? Yeah, in Boston. The right. No, just one side. Just one side. The other one was only 30% black. And that one was like 90%. Oh, si, si. Yeah, so. Did he do it when he was away? No, he had surgery. He was put under. Because a friend of ours did it when he was away? Oh, wow. Yeah, they don't go too, well that's when they can go through. That's right, yeah. But his was not like 90% black. In America they do better. Here they have cut it. Oh, si. Yeah, and I. And my husband. But now they do better. I don't know. Si. Where did you do it? In Messina? In Messina. Oh, in Messina. What? In this operation. How did you do it? Can you see your scar? It's good. I had a professor that went from America. One special a spinel. He was called spineli. Oh, yes, yes. And he went to America to do a lot of trades. And he did not expect that. Oh, OK. But then he just did not repair it. Oh, no. He did not repair it. He then had to he removed 550.000 euros. Oh, yes. Right, that's right. Oh, wow. That's right. So the money was going to repair it. If it had to repair it. l'operazione più importante, ma questo è quello che è andato bene, perché non è andato bene? perché non esiste il sangue del sistema come deve uscire, ci dice che era la vera, un pochettino quando l'hanno fatto, un pochettino si è chiusa, un pochettino a posto prendo questo sistema. L'hanno fatto aperto. Un attimo vedo cosa stiamo facendo. Ma mettono dove c'è la restrizione, mettono un pochettino la vera, si è chiusa un pochettino. Oh si, si. E' una cosa che li larga la vera. A parte che la confiano. L'aprono, vanno dentro con la sonda. No, no, ora con la sonda forse. Ma allora lo tagliavano. Ah, allora lo tagliavano. Qua e qua ci vediamo. Qua è arrivata al 90, al 92. Oh, al 92. O al 92. O al 92. Prendola e poi sarà fredda. Ah, si, grazie. Oh, si, si. Oh, si, si. Il zucchero, grazie. Il mio fratello? Il mio fratello? Il mio fratello è stato fatto nel 2006. Il mio fratello. Oh, si. Prima di tutto, devi controllare. Sempre vada a controllare. Prima. Si, si. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Quindi tu abiti qualche mamma? Sì. Grazie. E tu fratello? Mi fratello abita in paese di sotto. Paese di sotto. Oh, sì. Quale paese di sotto? No, in sotto no, il paese è sempre questo. Ma è l'inizio del paese di sotto. Questa è fatta con la moca espressa, con la macchetta con le cialde. Cosa succede? Un'altra cialda per Tonino. Hai fatto? Sì. Sì, sì, Tonino. No, Alessandra, aspetta che il figlio è il cazzino. Ok, ti piace? Cazzino. Cazzino. Più non prende caffè. Espresso. Espresso, con la macchinina. Prima la mette e l'avevo messo qua. Oh, le salde, Filippo. Capisci? Non con le salde. È buonissimo, è buonissimo. Uno ogni cento faccio caffè. È buonissimo, è buonissimo. È tipo barri. L'avevamo prima messo qua. L'avevamo messo qua, però, siccome poi ho montato quel pezzettino, poi non mi piace il disordine in cucina. Ma hai visto che bella casa che hai realizzato? Brava. Sei un architetto nato tu, eh? Eh, sì. Io l'ho disegnata la cucina. Brava. Io ho disegnato tutte le piastrelle, come devono essere queste, quadratini, là dietro ho fatto col mosaico. Quelle ho fatte prendere, le ho presi da Francesco De Maio, di Vietre. Sono amiche di Vietre. Queste sono tutte fatte a mano, queste mattonelline. li ho presi qua da un rivenditore che li porta dalla zona di Sorrenca. Bellissimo. Io vi ricordo quando la mamma ha fatto il bagno nuovo, e ha messo le mattonelle fermate, me le hai fatte vedere. Sì. Io ormai l'ho tolto. E glielo l'ho tolto di nuovo. L'abbiamo tolto dove c'era la cucina che era stata il bagno. Abbiamo fatto il cosidore. E come ho comprato questa casa legata che non c'era ancora? Ma io già. Perciò l'abbiamo tolto. Perché dove abbiamo fatto il cosidore. Il bagno l'abbiamo tolto completo. Abbiamo fatto un altro bagno. Adesso insegna pure lo schizzo di capelli come lo fai. Ah, senteste, volevo dire che ogni tanto non solo la cucina, ma ogni tanto gli faccio pure lo schizzo di capelli come li deve tagliare. Perché lui se non ci sono i capelli non glieli taglia. Sì, sì.